Abbiamo quasi ridotto al silenzio il loro fragore, giganti al limite dell'estinzione. Nella caldera di Yellowstone, una manciata di questi bestioni primordiali ha fatto un tumultuoso ritorno. I bisonti, un miracolo della bioingegneria, sembrano invincibili. Questa icona americana non sarebbe niente senza la potenza mortale che l'ha plasmata. Adesso anche loro sono tornati. Il lupo e il grizzly, ognuno pronto a uccidere. Perfino il terreno è mortale. E poi c'è la stagione dell'accoppiamento, quando i bisonti combattono tra loro. Per la prima volta dopo quasi un secolo, i bisonti affrontano i loro antichi avversari. Sul Serengeti americano. E poi c'è la stagione dell'accoppiamento, i bisonti affrontano i loro antichi avversari. Sotto il freddo cielo primaverile del Parco Nazionale di Yellowstone, sta per avere luogo un dramma di morte ed estinzione. Un branco di bufali, chiamati anche bisonti, circonda un compagno caduto. Uno di loro è morto, vittima del duro inverno nel parco. E il branco sembra reluttante ad abbandonarlo. Ma l'acerrimo nemico si avvicina. È il lupo. Oltre all'uomo è l'unico vero avversario del bisonte. Sono attratti dal fetore della morte. All'inizio sembra che i lupi abbiano la meglio. Ma i bisonti non abbandonano il terreno. Ritornano dal loro caduto, per adesso. C'è un antico conto in sospeso, quasi determinato dal buco nero delle estinzioni. Un tempo il bisonte batteva i sentieri del Nord America, spiato dal lupo. Decine di milioni oscuravano le infinite pianure ondulanti. Ma la conquista del West ha visto i bisonti e la popolazione locale che dipendeva da loro, sconfitti. Negli ultimi decenni del XIX secolo, l'habitat del bisonte si è drasticamente ridotto. Nel 1908 rimanevano solo un migliaio di bufali, la maggior parte dei quali in cattività. A dispetto delle probabilità, 23 bisonti selvaggi sono sopravvissuti in un remoto angolo del Parco Nazionale di Yellowstone. È qui che è iniziato il loro ritorno. Ora, i loro discendenti sono quasi 5.000. Ma i lupi hanno una storia più triste da raccontare. Disprezzati e perseguitati, nel 1926 vengono sterminati nel parco. Poi, nel 1995, nel parco di Yellowstone vengono introdotti i lupi grigi del Canada. I nuovi lupi del parco si sentono a casa, in mezzo agli alci. Vanno subito all'attacco con straordinario successo. Ma la maggior parte di questi lupi canadesi non ha mai visto un bisonte. Oggi, per la prima volta in 70 anni, gli antichi nemici hanno un confronto diretto. Mentre rivivono il loro secolare conflitto, il cuore selvaggio di Yellowstone torna a battere. La primavera è una stagione di violenza e rinascita. Una femmina di bisonte si dirige da sola in un mondo pieno di lupi. Un solo impulso ha il potere di farle abbandonare il branco. Il travaglio avanza velocemente. Controlla il suo cucciolo. È un maschio. 18 kg di puro istinto. Queste prime ore sono critiche. Dovrebbe riuscire a stare in piedi in 10 minuti e dopo un'ora pronto a correre. E avrà bisogno di correre. Durante il suo primo anno il branco migrerà attraverso le praterie a nord, dove i lupi dominano il territorio come banda di strada. Il branco dello Slough Creek. Il branco di Druid Peak. Il branco del Lugget Creek. Questi lupi hanno appena iniziato a cacciare i bisonti e ci riescono. Perseguitato da famelici assassini, questo cucciolo sarà un bersaglio costante. Ha solo il 50% delle probabilità di superare l'anno. Ma la sua prima sfida è il suo stesso branco. Essendo uno dei primi nati della stagione, è oggetto della curiosità dei suoi simili. Sua madre lo difende dalle bestie più feroci. Alcuni 40 volte più grandi di lui. Le tempeste di neve tormentano Yellowstone fino alla primavera, dando un vantaggio ai predatori. I bisonti uccisi dall'inverno sono un cibo veloce per i grizzli affamati che escono dalla loro tana. Questi orsi fanno un piccolo spuntino, sempre che ci riescano. Con i cuccioli nella tana, la fame dei lupi aumenta. Si preparano a cacciare e a prendere di mira i cuccioli di bisonte. Ma non sarà semplice. Con tutti quei lupi, un cucciolo di bisonte non dovrebbe sfidare il destino. I lupi si avvicinano, simulando indifferenza. Ma la loro tranquillità significa invece che la natura gli sta portando ciò che aspettavano. arriva una femmina, nervosa e vulnerabile. I lupi hanno preso il suo piccolo appena nato. Il branco reagisce. La loro antica ostilità si riaccende. Il sacrificio di un piccolo significa che gli altri vivranno, almeno fino a quando i lupi non riavranno fame. finalmente la tempesta finisce. Un tempo i coyote erano i padroni del posto, ma il ritorno del lupo li ha decimati. Presi di mira dai cugini più grandi, la popolazione dei coyote si è dimezzata nelle praterie del nord. Alcuni pericoli mettono alla prova i coyote, ma sono letali per altri. In una pozza lì vicino la fortuna abbandona questi bisonti. È bastato solo un passo falso. In acque che avrebbero ucciso un uomo in pochi minuti, la possente femmina lotta per quattro ore prima di arrendersi. Il giovane maschio resiste più a lungo. Diversi bisonti affogano qui ogni anno. E gli altri residenti si affidano a questa fatalità. Alcuni uccelli informano un grizzly del tesoro affondato. Un allettante ma irraggiungibile banchetto. Testa il ghiaccio per vedere se può reggere i suoi 230 kg. Ma non regge anche il peso di un bisonte di 450 kg. Lo spettacolo attira un pubblico affamato. Anche un grizzly lascia qualcosa da mangiare agli altri. E le aquile, i corvi e i coyote lo sanno. Il branco di Druid Peak è in cerca di prede. Come gli altri branchi di Yellowstone stanno cacciando i bisonti. Imparando di nuovo la brutale arte di cacciare prede che contrattaccano. gli alci le loro prede più familiari si limitano a correre. Il piccolo è ignaro dell'imminente pericolo. spostandosi tra i cespugli i lupi studiano le estremità del branco. Colgono di sorpresa il piccolo e sua madre isolandoli dal resto del gruppo. spingono la coppia solitaria su per un crinale ottenendo un grande vantaggio. Il bisonte lascia partire un calcio che fa volare via un lupo il quale con queste ferite potrebbe non sopravvivere. Il resto del branco continua l'attacco. Il cucciolo ha poche speranze. Ma arrivano i rinforzi. il branco dei bisonti accorre in aiuto. È una situazione di stallo. Questi lupi stanno ancora affinando le loro tattiche mortali ma sanno quando è il momento di rinunciare. Il cucciolo deve la vita al branco. I potenti bisonti sono necessari per difendere la vita dei più piccoli. Ma per un cucciolo la vita familiare è piena di sorprese. chi può dire fino a quando potrà giocare con la mamma? Le mandrie di bisonti seguono una rigorosa gerarchia. Le femmine sono al vertice. Le più anziane con la loro esperienza dominano. Le femmine più giovani e i loro cuccioli devono obbedire. ai giovani maschi deve essere costantemente ricordato che sono le femmine adulte a governare. Dopo aver passato qualche anno con la mandria la maggior parte dei maschi lascia il branco. Vagano per le praterie fino a quando la stagione dell'amore li riporta nel branco per la sfida più importante. Un maschio adulto è equipaggiato per sopravvivere e lottare. È dotato di una mole di una corazza e di un'agilità impressionante. Pesa circa 900 chili ed è alto quasi due metri. È più alto di quasi 30 centimetri della femmina ed è molto più pesante. Sviluppa il profilo distintivo dalle spalle larghe e i fianchi stretti. La sua enorme cassa toracica racchiude dei potenti polmoni. Le vertebre sulla sua gobba crescono fino a 30 centimetri di altezza. Da qui i tendini e i muscoli si sforzano per sostenere la sua enorme testa e per dare forza alle zampe anteriori. Questa struttura colossale è ricoperta da una pelliccia spessa e essuta. Sulla sua testa la pelliccia diventa un elmito spesso 8 centimetri un ammortizzatore naturale. La parte anteriore è progettata per la potenza mentre quella posteriore è costruita per la velocità. Questi arti molto muscolosi sono incredibilmente agili e gli zoccoli posteriori possono far partire un colpo mortale. Chilo per chilo il bisonte americano è una potente macchina da combattimento pronta ad entrare in azione per il prossimo attacco. A luglio i predatori di Yellowstone sono occupati ad allevare i piccoli. I cuccioli di coyote sono nati nello stesso periodo di quelli di bisonte. dopo essere stati svezzati con il latte per tre mesi adesso necessitano di carne rigurgitata dagli adulti che tornano. Altri piccoli predatori imparano le basi della caccia con scarsi risultati. La loro madre un grosso grizzly è nelle vicinanze a caccia di cuccioli di alce nascosti tra i cespugli ma finora nessuna fortuna. Con il crescere del numero dei grizzly aumenta anche la concorrenza e gli orsi sono obbligati a cercare nuove prede. Un bisonte adulto è troppo grande ma i suoi cuccioli sembrano allettanti. per nutrire i suoi cuccioli affamati affronterebbe un intero branco di bisonte. Un cucciolo di bisonte un predatore affamato una madre vigorosa vale la pena rischiare? Il grizzly non può mettere in pericolo il branco. dovrà agire velocemente astutamente e di sorpresa. Malgrado la sua mole l'orso può raggiungere i 55 chilometri all'ora. Il bisonte è altrettanto veloce ma non il suo cucciolo. il branco fugge precipitosamente ignaro dell'agguato dell'orso. Il grizzly separa il cucciolo dalla madre con l'abilità di un cowboy da rodeo. La madre contrattacca ma è troppo tardi. La femmina è restia ad accettare la morte del suo cucciolo Il crudele risultato di questa caccia significa una cosa per il branco possono pascolare in pace fino a quando non si presenterà il prossimo predatore ma a certe volte la situazione si capovolge Il branco di bisonte è arrivato fino alla tanna del coyote e i cuccioli sono sprovveduti con i loro genitori che sono a caccia devono affrontare il branco da soli Brutte notizie per i cuccioli questi sono solo i primi esemplari di un branco che sta per arrivare e i bisonti non mostrano alcun rispetto per il ruolo di predatore dei coyote schiacciati dal loro numero e dalle loro dimensioni i cuccioli cercano di fuggire Il branco si raduna in cima alla tanna del coyote studiando le tracce e l'odore dell'urina e assaporando la loro vittoria sui coyote ma non così in fretta i coyote adulti sono arrivati pronti a limitare i danni prima di tutto devono trovare i cuccioli la madre emette il suo richiamo alla dunata ma la situazione peggiora c'è un grosso e potente lupo quando i lupi trovano i coyote nel loro territorio questi hanno i giorni contati e questo lupo non è diverso dagli altri per salvare i loro cuccioli i coyote si coalizzano per cacciarlo dal loro territorio è il momento di spostare la loro tana in una zona più sicura a metà estate ogni cucciolo di bisonte è cresciuto quasi come un adulto sono diventati esperti nell'attraversare i fiumi e stanno mutando il manto arancione come con quello con quello marrone scuro del branco un giocoso coyote insegna a un cucciolo il metodo di combattimento con cui i bisonti affrontano i predatori nella stagione dell'abbondanza è un vero divertimento ma quando un bisonte di un anno si unisce al gioco il coyote si ritira durante la breve estate i bisonti di Yellowstone trascorrono le ore nutrendosi per il prossimo inverno ogni boccone è importante e qualsiasi tipo di vegetazione andrà bene inclusa quella legnosa non c'è da stupirsi che sopravvivano meglio del bestiame che vive nelle dure praterie sono qui per dominare una terra che non perdone devono tutto al loro incredibile stomaco a quattro sacche che può digerire fino a 23 kg di vegetazione al giorno l'erba parzialmente masticata passa nel primo sacco il rumine un'enorme vasca di fermentazione piena di maestri microbi che rompono la lunga molecola della cellulosa dell'erba poi la riportano su e la masticano fino a farla diventare una poltiglia la poltiglia scivola attraverso le altre tre sacche dello stomaco che assimilano ogni elemento nutriente per poi finire negli intestini il finale è una meraviglia della digestione quello che rimane nutre le larve di insette in cerca di questa delizia di larve i corvi rivoltano con entusiasmo questi sformati dei bisonti a metà estate uno straniero si avvicina rumorosamente al branco è un maschio molto grosso in cerca di una sola cosa e trasuda testosterone perfino un grizzly e il suo cucciolo accettano di offrirgli il loro spazio seguendo le sue orme arrivano altri rivali pronti a darsi battaglia alcuni hanno esperienza con diversi duelli alle loro spalle altri sono nuovi al campo di battaglia ma soltanto uno dominerà lo spettacolare combattimento dell'accoppiamento spetta a loro il rumore rimbomba nell'aria non viene dal cielo ma dallo scontro tra titani per i prossimi tre mesi i maschi combatteranno per il diritto di accoppiarsi è una complicata partita per il sesso nei giorni di questa partita potrebbero esserci solo tre femmine per l'accoppiamento la sua sfida è trovarne una e deve riuscirci prima degli altri non è il momento di andare per il sottile i giganteschi ed eccitati maschi annusano il profumo delle femmine che raggiungono il cuore di un bisonte attraverso le sue narici non si vergognano a controllare la merce da vicino le ghiandole che hanno nel naso gli dicono quando le femmine sono in calore se è così lui si mette al suo fianco a volte lo fa aspettare per giorni altre ancora un maschio si intromette senza essere invitato e il gioco dei gladiatori abbia inizio lottare è faticoso e pericoloso perciò prima si prova con delle pose da macio ci vogliono dei movimenti studiati e uno spiccato senso della moda pavoneggiarsi fa sempre impressione così come un bel mugito concedere il fianco a un rivale non è intelligente ma mette in mostra il fisico possente è il momento di buttarsi a terra per segnare il territorio i maschi urinano prima di scalciare e rotolarsi il polverone alzato potrebbe trasmettere i loro feromoni solo quando queste tattiche non danno risultati si ricorre alla violenza i bisonti mirano ad uccidere in modo cruento i loro rivali se va bene un terzo dei maschi maturi di un branco finisce per rompersi qualche costola a Yellowstone la stagione dell'amore raggiunge il massimo della frenesia nei primi di agosto le testate fanno pensare che siano i maschi a comandare alla fine sono le femmine che scelgono se non le piace il suo pretendente fugge via quando una femmina in calore corre in mezzo al branco il caos e i combattimenti si sprecano questa femmina più anziana e con più esperienza si prende del tempo prima di scegliere il suo cucciolo non sa cosa pensare e ora c'è un maschio più giovane che cerca di attirare la sua attenzione un novellino di quattro anni vuole avere la sua occasione saltando le formalità raccoglie la sfida di un maschio più anziano e la sua È giovane ed entusiasta, ma l'esperienza trionfa. Il maschio più anziano torna a cercare la femmina che è finalmente pronta. 15 secondi ed è tutto finito. Ma per suggellare la sua conquista, la segue per una mezz'ora per assicurarsi che nessun altro provi ad accoppiarsi con lei. Per il cucciolo questo segna l'inizio della fine del suo rapporto con la madre. La stagione dell'amore è finita. I maschi sono esausti e dimagriti. Un maschio può arrivare a perdere quasi 100 chili nell'impeto della passione bovina. Solo pochi campioni generano la maggior parte dei cuccioli di un branco. Molti altri hanno combattuto vigorosamente senza ottenere nulla. Alcuni tornano a casa feriti. Altri, per le ferite infette, muoiono. E questo vecchio signore ha probabilmente combattuto l'ultima battaglia della sua vita. I sopravvissuti si dirigono verso i pascoli con la vegetazione ricca di proteine. Se non riprendono peso, il prossimo inverno potrebbe essere l'ultimo. La stagione del lupo è dietro l'angolo. Con l'avvicinarsi dell'inverno, quando le piccole prede scarseggiano, i lupi si alleano. Organizzano attacchi coordinati per portare a casa molte prede, altrimenti morirebbero. I bisonti possono raggiungere i 50 chilometri orari, una velocità simile a quella di un cavallo da corsa. I lupi possono fare altrettanto e hanno la loro stessa incredibile capacità di resistenza. Ecco perché il bisonte ha bisogno di tutta la sua armatura, la pelle spessa, gli zoccoli affilati e il loro calcio mortale. Ma soprattutto c'è il branco, che si raduna intorno a un compagno disperato, unendo le forze per respingere gli affamati canidi, almeno per un po'. Con le nevi di ottobre arriva la stagione del lupo e il loro grido di guerra, in segno di dominio. Per i bisonti di Yellowstone è il momento della resa dei conti. La neve è un alleato del lupo ed è un nemico mortale per il bisonte. A volte per cercare l'erba si brucia più energia di quanta se ne recupera mangiando. Ma grazie alle loro possenti e tondeggianti test riescono a scavare nella neve e la loro digestione rallenta per aiutarli a ottenere nutrimento dalle piante legnose. Peggio della neve è il ghiaccio. I sentieri preferiti diventano insediosi. Un passo falso può significare una zampa rotta e quindi una condanna a morte. Alcuni bisonti di Yellowstone sfruttano la spettacolare geologia crogiolandosi nelle sue saune naturali. Ma dove fuoco e ghiaccio si incontrano risiede il pericolo. L'inverno aumenta il fattore crudeltà. I rivali, che durante l'estate si tollerano, non possono permettersi questo lusso nei momenti difficili. Un cucciolo di alce, allontanato dal suo branco dai coyote, cerca disperatamente rifugio tra i bisonti. Ma qui non è il benvenuto. Mentre i coyote li circondano, i bisonti cercano di allontanare il cucciolo di alce. Non vogliono avere niente a che fare con questo intruso che ha portato i canidi affamati fra loro. Il povero cucciolo si trova intrappolato tra i predatori che vorrebbe evitare e un branco che non lo vuole. I profondi banchi di neve peggiorano la sua situazione. Di nuovo sceglie i brutali bisonti contro i famelici coyote. Ma il giovane bisonte maschio diventa ancora più aggressivo. I coyote aspettano che qualcuno faccia il lavoro per loro. Il cucciolo viene scagliato in aria da una cornata mortale del bisonte. E' a terra, inerme. Il branco dei bisonti sembra disorientato. Alla fine lo cacciano via condannandolo a una morte sicura. Diventa un raro banchetto invernale per i coyote. Il freddo mortale di Yellowstone raggiunge il massimo esigendo un tributo dal branco. Con l'abbassarsi della temperatura la tensione sale. Le femmine anziane lottano con i più giovani per il diritto al pascolo. I piccoli bisonti sono quelli che hanno più difficoltà a trovare un pascolo decente. L'intero branco si indebolisce. E il branco di lupi dello Slav Creek lo sa. Felici della vulnerabilità del branco mettono alla prova perfino la debolezza degli adulti tormentandoli costantemente. Una femmina che è rimasta indietro diventa un bersaglio. la separano e la circondano. I lupi potrebbero avere la meglio sul bisonte. l'unica speranza della femmina è il branco anche se gli altri non hanno energie per difendere ogni membro dall'attacco. Una volta a terra arriva la morte. il suo cucciolo cammina da solo per la prima volta nella sua vita. I lupi sembrano celebrare la vittoria. Anche per Yellowstone è una vittoria macabra e paradossale. Un segno che il parco sta tornando al suo antico equilibrio. I lupi hanno riappreso l'arte di uccidere il potente bisonte. La morte della femmina fortificherà il branco. I bisonti che sopravvivono ai lupi vivranno per riprodursi il prossimo anno. È così che funziona. La libertà viene segnata dal sangue quando due antichi nemici riaccendono una faida primordiale un ordine naturale che gli uomini hanno quasi annientato. Ma la stagione del lupo sta per finire. Le occhie del Canada annunciano l'apertura della stagione primaverile e nuovi pericoli. Adesso è la natura stessa a prendere di mira i bisonti. Solo metà dei cuccioli sono sopravvissuti all'inverno e hanno un ultimo ostacolo da superare prima che la situazione cambi in loro favore. Ancora una volta le possenti creature cadono in mezzo al ghiaccio. Oggi tocca un cucciolo che ha perso la mamma per colpa dei lupi durante l'implacabile inverno. lotta strenuamente nelle acque profonde poi decide di tornare indietro. Presto il suo branco si sposterà. Le sponde sono alte e difficili da risalire. un maschio si avvicina dandogli un po' di coraggio. Il cucciolo resiste infreddolito avvilito ma vivo. invece di offrirgli conforto il branco si innervosisce e gli si rivolta contro. Ricoperto di fango non assomiglia e non odora come uno di loro. A quanto pare sta per ottenere lo stesso trattamento riservato allo sfortunato cucciolo di alce. Sua madre avrebbe riconosciuto la sua voce ma lei non c'è più. Il ghiaccio non lo ha ucciso ma il suo branco potrebbe farlo. fortunatamente si asciuga e ritorna bisonte riprendendo il suo posto nel branco. Con l'arrivo della primavera il cucciolo raggiunge il suo primo compleanno. È sopravvissuto all'anno più difficile della vita di un bisonte. Adesso si unisce alla truppa di quelli che hanno un anno. Sta per diventare un vero bisonte. Se avrà fortuna vivrà per combattere accoppiarsi e procreare altre generazioni di bisonti di Yellowstone. I bisonti sono tornati messi alla prova dai lupi e dagli inverni le forze evolutive che li rendono più forti. Ancora una volta i bisonti americani regnano su Yellowstone e hanno un posto dove vivere. Così come un tempo sono di nuovo a casa nel loro habitat naturale. in cui si un po' un po' un po' Grazie a tutti